Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Premier Mario Draghi e tanti ministri saranno protagonisti della due giorni del Forum Ambrosetti in programma venerdì e sabato a Sorrento. Per Vincenzo De Luca si tratta di un momento importante ma che deve essere accompagnato necessariamente da gesti concreti di attenzione verso la campagna e il mezzogiorno. Verranno tante personalità, ovviamente un segno di attenzione, finché non si comprende che il rilancio del Sud è una carta decisiva per il rilancio dell'Italia, noi continueremo ad affannare. La cosa è ancora più incredibile perché parliamo di PNR, parliamo di 209 miliardi che sono stati dati all'Italia esattamente per recuperare il divario Nord-Sud, altrimenti questi soldi non sarebbero arrivati. Il Governatore non nasconde i dubbi sulla possibilità di dare concreta attuazione ai tanti progetti previsti dal piano di ripresa e resilienza. Più di qualche perplessità, noi dobbiamo ancora risolvere i due problemi veri, la palude burocratica e le risorse umane necessarie per le progettazioni, per fare le gare, per essere in grado di tradurre le possibilità in cose realizzate. Parole, quelle di De Luca, scandite a margine della visita all'azienda agricola regionale in prosta nella Piana del Sele. Un'occasione importante, ha spiegato il Governatore, per fornire un percorso di reinserimento sociale e lavorativo a detenuti e soggetti deboli.